Promette di allargarsi a macchia d'olio l'indagine sulla maxi-truffa denominata Nevergreen, tradotto in italiano My Verde. Lo lasciano intendere con chiarezza gli stessi inquirenti, che sono convinti che ancora potrebbero saltare fuori altri risvolti investigativi. D'altronde l'indagine è di fatto ancora le prime battute, anche se va avanti da un paio di anni. Siamo in una prima fase, una prima tappa dell'attività investigativa che è costituita dall'interruzione di questa condotta criminale che si protrae da circa un anno e mezzo e che noi abbiamo interrotto intanto con l'esecuzione di queste misure cautelari, personali e reali. Si tratta di valutare la posizione di tantissime persone a diverso titolo coinvolte e sotto diversi profili responsabili e con partecipi a questa attività. Quindi le indagini sono sicuramente ancora in corso e speriamo di concluderle nel più breve tempo possibile. Dai riscontri investigativi è emerso che la truffa seguiva una sorta di sviluppo piramidale. Tutto partiva dai depositi che non denaturavano e poi si sviluppava grazie alle ramificazioni sul territorio degli autotrasportatori ai distributori della provincia trapanese. Poi per giustificare tutto si fatturava ad un consorzio agricolo con base nel Catanese ma che di fatto non era operante. Ci sono ancora degli aspetti che meritano ulteriori approfondimenti. L'imponenza però della frode è già evidente. In pochi mesi sono stati accertati 39,5 milioni di litri di gasolio contrabbandato con un'evasione complessiva di accise per circa 20 milioni e diva per altri 5 milioni. Quindi lo Stato ha perso in totale 25 milioni di imposte a tutto beneficio di soggetti che hanno venduto poi a nero questo prodotto ai consumatori finali. Ad inchiodare l'organizzazione fraudolenta anche le immagini riprese dalla videosorveglianza che si sono rivelate determinanti per confermare alcuni passaggi della truffa. In tal senso ha avuto un suo ruolo di collaborazione anche l'Agenzia delle Dogane di Trapani che attraverso il suo personale ha supportato le fiamme gialle nel loro lavoro investigativo. Abbiamo prelevato dei campioni da delle autocisterne su strada e abbiamo evidenziato come quel prodotto non era colorato. Abbiamo ascoltato quindi gli stessi autotrasportatori che in qualche modo, mentre i promotori erano i proprietari delle aziende di autotrasporto, ma gli stessi autotrasportatori nelle conversazioni telefoniche erano consapevoli del meccanismo fraudolento. Quindi questo meccanismo era così pervasivo che anche il semplice autotrasportatore ne aveva la piena consapevolezza.